Da domani torna il rito del caffè al banco, nuove riaperture il primo giugno anche in Abruzzo con regole che valgono per le zone gialle. In attesa del prossimo 7 giugno, quando per la nostra regione scatterà la fascia bianca e riaprirà tutto a eccezione delle discoteche. Non ci sarà alcun coprifuoco. Da domani si può tornare a consumare nelle sale interne di ogni attività, mantenendo la distanza di sicurezza e la mascherina quando non si mangia. Tornano in attività tutti quegli esercizi di ristorazione che finora facevano solo a sporto perché privi di spazi esterni. Da domani primo giugno si può dunque tornare a bere il caffè al banco del bar. Resta invariato il numero di persone al tavolo del ristorante e se non si è conviventi si può mangiare insieme in quattro al massimo. Il coprifuoco rimane alle 23 fino a 7 giugno, quando in Abruzzo scatterà la zona bianca e non ci sarà alcun coprifuoco. Sarà eliminato del tutto, salvo nuove indicazioni, a partire dal 21 giugno nell'arresto d'Italia. Dal primo giugno, in zona gialla, riaprono al pubblico gli stadi e gli impianti sportivi all'aperto, ma la capienza è ridotta a un quarto. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e non potrà superare mai mille spettatori per ogni impianto all'aperto. Da segnalare inoltre che è possibile organizzare le feste di matrimonio solo con l'apposito Green Pass. Intanto riparte il primo giugno la stagione balneare, sempre nel rispetto delle regole anticovida, con gli operatori che si dicono pronti ad accogliere i turisti nella massima sicurezza sull'onda, è il caso di dire della ripartenza della speranza. Resta in vigore, è bene sottolinearlo, l'obbligo della mascherina, del distanziamento, dell'igienizzazione delle mani e della sanificazione dei locali pubblici anche in zona bianca.